Pronto? Katia? Sì? Ciao sei in diretta, sono Liliana Senti, Liliana, buongiorno, volevo dirti Sì Che oggi Bruno Sì, sì Ha dedicato una delle sue poesie Sì Nella raccolta non rubate la mia vita Dedicata a tutti coloro che sono morti senza un abbraccio Ah, ho capito Vorrei iniziare proprio con questo, se non si dispiace Va bene Dalla raccolta di poesie non rubate la mia vita Quando sarò pensiero Quando sarò pensiero su cigli di visioni Dagli orizzonti mici di verso stelle di mie antiche iscrizioni Oppure anche il tempo in cui sarò passione Nel buio ottuso Per lunghi sguardi amorosi lasciati in l'ambile dalle mie chistette Di certo, o forse, il giorno che sarò ricordo Trabociare arrufato di vecchi amici alticci Sulle note macchie delle mie sortite Non posso Voglio Voglio Quando sarò pensiero la dolce e la coerenza stappata a mani unite Dai cesti di delizie per gli epigrammi delle tue testette Non posso Non posso Voglio Il tempo in cui sarò passione Il tempo in cui sarò passione è la mascherata tenirezza Oltre a impimere apparenze di abbracci mafiosi Interrata sotto il macchema del suo vulcano Non posso Voglio Il giorno che sarò ricordo Il giorno che sarò ricordo Il giorno voglio Il nostro giorno voglio Intero Dal primo all'ultimo minuto Dal primo all'ultimo sorriso Dal primo all'ultimo tuo bacio Meravigliosa Veramente Complimenti a Bruno Mancini e a te che l'hai letta No no Katia Particolarmente cara Perché è dedicata Lui ha dedicato a tutti quelli che sono morti E sono tanti In queste circostanze E tremente Non sono bravi Io Il giorno che sarò ricordo Il giorno che sarò ricordo Io ho sempre detto durante le dirette Che è un momento orribile per il mondo E che tutti quanti ci dobbiamo stringere tra di noi Che siamo sopravvissuti E con il ricordo Nel cuore forte di tutte le persone che abbiamo perso Ho sempre detto che c'è Mi vuole tanta bontà e tanto altruismo In questo momento certo Certo E soprattutto ecco io nel mio piccolo ho voluto ritagliare questo spazio Anche per intrattenere con il fatto che siamo tutti in quarantena E che fondamentalmente siamo bloccati e non abbiamo grandi cose da fare dentro casa Ecco Io volevo dire due parole per introdurre l'intervista che adesso ti faccio Scusatemi Allora praticamente Katia Massaro dicevo all'inizio della diretta Dell'altra Quella precedente Appartiene all'associazione DILA come membro Giusto? Sì Ecco Di Bruno Mancini L'associazione internazionale DILA Ischia per l'arte Che è un'associazione Dove io anche sono ambasciatrice culturale Dove praticamente Ci ritroviamo tutti noi artisti Di tutti i tipi Di ogni livello E' un'associazione dove si fa la festa per l'arte E ecco E Bruno è di Ischia E anche tu Katia sei di Ischia Sì sì io sono Ischitana Doc Ok Lo dico con molto orgoglio Lo dici con molto orgoglio Bellissimo Tra l'altro dicevo poco fa Che Scusami Prego Abbiamo una marcia in più Questo è vero C'avete il profumo di mare Sempre che Che vi Vi rende speciali no? No speciali Come la gente che viene dal mare Come la canzone Quella bellissima canzone Dobbiamo affrontare bene le situazioni Perché siamo isolati Solani isolati Quindi bisogna che ci arrangiamo Ok E dicevo A Ischia tra l'altro C'è questa associazione Bellissima L'oceano mare Delfis Che è stata fondata da te E dove tu lavori Giusto? Questo è un orgoglio Ecco che bello Raccontaci qualcosa rispetto all'oceano mare Delfis Beh guarda Venti anni fa Io tornavo da Viaggio in Australia Dove avevo avuto questo approccio con i delfini in una laguna Sì Quando sono tornata a Ischia E' stata come un'ispirazione Quando sono tornata a Ischia ho detto Io devo fare qualcosa Perché per questi cetacei che abbiamo intorno a Ischia Sono sette spese Che girano intorno all'isola Perché sull'isola Tra Ischia e Ventotene C'è un canyon sottomarino Sì Loro vanno a nutrirsi E' stata la forma di muto Dove c'è il grill C'è tutto il Vanno a nutrirsi E ad accoppiarsi Ho capito I molti diventano stanziali Che rimangono qui Difatti noi ci stiamo studiando da questa Ho capito E poi Niente E' stata tornata E ho Ho contattato Dei miei amici Che mi hanno dato della pasta E comunque E' nata la sensazione Ho capito Prima mi hanno dato della pasta Però poi mi hanno secondata E' quando Quando hanno capito Che era una cosa bellissima Oggi siamo internazionali E siamo dappertutto Insomma In America In Australia In Nuova Zelanda Abbiamo studenti Che arrivano da ogni parte Del mondo Per studiare Sulla nostra parca Jean Gab Che è un vecchio Veliero del 30 Che abbiamo restaurato Che bello Tra l'altro Questa cosa Già me l'hai raccontata Durante l'intervista Che abbiamo fatto Per il dispari Della redazione Di Gaetano Di Meglio Che saluto Salve Penso che io ho lavorato Col padre Per tanti anni Fino a quando Purtroppo Purtroppo Se n'è andato Perché era la nostra colonna Io con lui Ho fatto tantissimi articoli Con Gaetano Di Meglio Dici tu Il papà di Gaetano Di Meglio? Sì Il papà di Gaetano Il Domenico Penso che io Nel mio ufficio Ho una gigantocratia Di Domenico Che mi guarda sempre E mi afferma Quando lavoro Che bello Una cosa bellissima Che volevo dire Quando ti ho intervistato Ti ho chiesto Se tu come donna Per piacere O anche per lavorare Hai viaggiato molto Ci vuoi raccontare Un pochino Dei due viaggi Ci vorrebbe una giornata Allora Ho passato 4 anni In Australia Per studiare Tutte le interazioni Tra i bambini autistici E delfini Che bello Ho passato Il Dolphin Discovery Center Di Mamberi Che è un piccolo paese Vicino per Sul mare E poi Niente Isole Maurizius Dove Vado spesso Perché ho quasi adottato Un istituto di bambini Figli di malati Di AIDS Quindi ogni tanto Vado a trovarli Con le valigie Piene Che bello Sono come Mei figli E poi Niente In India Sono stata anche Tre volte E anche lì Ho fatto Io sono nata A fare volontariato Da che avevo 7 anni Quando raccoglievo Tutti i cani E gatti Candaggi Li portavo a casa Che meraviglia Ho cominciato Molto presto Che bello Io dicevo Nell'articolo Che sei una donna Fuori dal comune Che hai perseguito Cioè Tu Prima al telefono Mi dicevi Io non sono speciale Io ti ho detto Speciale Perché Hai avuto Una volontà forte Di perseguire I tuoi ideali Per tutta la vita E questa Ho avuto anche la fortuna Che mi hanno Mi hanno secondata Nelle miei Prese folli Ho capito Guarda Dovresti vedere Oh Che bello Da una parte c'è il gatto E da un'altra parte C'è il cane Che bello Ho capito Ti posso chiedere Una cosa Particolare Rispetto a quel progetto Che hai detto Che hai fatto Con i bambini autistici Che mi interessa Sì Guarda che Ci sono molti bambini autistici E quindi Io ho pensato Veramente Ho fatto venire Anche il professor Dobbs Da Londra Che lui Si è sempre Interessato Di questo Di questo problema Difatti Avevamo fatto Tutto un progetto E niente Poi Chiaramente Dopo Costava troppo E non l'abbiamo Fatto Andare avanti Ho capito Perché stiamo Stiamo cercando Di aiutare Le persone Che hanno più bisogno Che non si possono muovere Da casa E quindi Ognuno di noi Vette fuori Dalla porta Mette della roba Da mangiare Poi dopo Facebook Si avvisa E loro vengono E fessimo L'hanno bussata Perché volevano Ringraziare Mi ha detto Non fa niente Sono impegnata Scusatemi Ho capito Senta Sentimi Scusami Katia Volevo dire Dicevamo Durante l'intervista Per il Dispari Che tu Ti occupi Anche Di altri Ruoli In altre associazioni Di solitarietà Insomma Non per gli animali Ma per le persone A proposito di questo Noi abbiamo Quest'associazione Del banco alimentare Che è la mia amica Carissima Che purtroppo Mi ha lasciato Da due anni Che è morta di cancro Pensa che ha avuto La telefonata del Papa Prima di morire La bellevizione Ho capito Sì Lei mi chiamassera Adesso Stiamo continuando Il suo lavoro Perché lei Ha creato Quest'associazione Della catena alimentare Abbiamo due depositi E andiamo da mangiare A un sacco di gente Che ha bisogno Ho capito Facciamo A volte facciamo Dei panchetti Delle cose Insomma Poi abbiamo Restaurato un piccoletto Di anziani Che era abbandonato L'abbiamo riempito Di piante Di ori Che bello Che meraviglia Che Un piccoletto Di nunzia Io lo sai Perché dico Dico che Ci sono persone Più speciali Di altre Perché magari Possono essere Ad esempio Soprattutto In un momento Come questo Per far andare In miglior modo Possibile Le cose Nonostante il dolore Della perdita Dei nostri cari E della costrizione Di stare a casa E magari Ecco Ci sono persone Speciali Che dedicano La vita Il loro tempo Parte del loro tempo Agli altri E sicuramente In un momento Come questo Sono Appunto Ad esempio Per far andare Il miglior modo Possibile Il mondo Nella direzione Giusta Ecco Io questo Volevo intendere Ecco Non che Speciali In modo Offensivo Ecco Anche con gli animali C'è tanta cattiveria Se non hai una idea Che brutta cosa Veramente È diventata Mangiare a tutti i gatti Anche io La mattina Il primo pensiero E' andare Da i gatti Andarci Perché I miei stanno Bene Però ci sono Tanti gatti In giro Allora io Mi faccio Tutta la mia zona Poi c'è Questa mia amica Che è Aizia E lei Bravissima Teresa Mastello Veramente Ha sacrificato La sua vita Agli animali A questi gatti E tante volte Ci sono persone Cattive Che non capiscono Che anche Il gatto Gatti in Egitto Era un animale Sacro Ecco E poi Hanno una sensibilità Povere bestioline Immensa Quindi fargli del mare È proprio una cattiveria Insulsa Proprio Di bassezza Umana Proprio Io mi ho dieci E tutte le mattine Mi trovo In fila Davanti alla porta Ecco Aspettano la mamma Non si muovano Aspettano Il mio cagnolino Che più che un cagnolino Crede di essere un gatto Perché vive con i gatti Da quando è nata Mi viene a chiamare E mi dice Alcati che stanno Pensando che hanno fame Ti avverte Si sono alleati Praticamente Allora Ci amano Poi Con Romeo e Giulietta Lei va a passare La mia lice E la mia vita Eh che bello Io ho anche un gattino Si chiama Charlie L'altra volta L'ho inquadrato Io lo dico sempre Lui È il mio angelo peloso Perché praticamente Io capisco proprio Che mi manda Le sue energie Con i massaggini Con le coccole È affettuoso In una maniera Perché non è vero Che i gatti Non amano come i cani Dicono Gli dicono le peggio cose Che sono Che sono Insensibili Che ti cercano Solo per mangiare Ma io dico Ma la gente È proprio ignorante Secondo me Veramente Adesso sai una cosa Adesso Adesso Mi ha chiamato La mia amica Di Giacolo Che lei fa Tanti programmi Che bello Mamma mia Veramente La conosci Non lo sapevo Io sono andata A Gheo Quando lei Era proprio giovanissima A Gheo Ad andare a Gheo A parlare dei delfini E lei si chiama La signora dei delfini Che bello Ma guarda Che bella cosa Adesso Devo andare C'è una cosa Che è appena possibile Devo andare A Razzar Sormila Perché Lei fa questo programma Il mondo insieme E poi Un altro Entendo sulla testa E lei Ha chiesto il mio aiuto Perché dobbiamo fare Una colletta Per salvare Dei cavalli Che purtroppo Non hanno la piada Per poter Darsi da mangiare Ah ho capito Adesso Io che sono un imbrana La posso aspettare Da mio nipote Che mi fa un bonifico Per questi cavalli Perché adesso Si fa da casa Ma io non sono capace Perché figure Di a malapena Riesca a parlare al telefono Ho capito Che bei progetti Delle cose Che profumano Di buono proprio Stai ricevendo Dei complimenti Meravigliosi Ivana Dama Ciao Ivana Dice Ischia nel mio cuore Maddalena dice Persona adorabile Ti stanno dicendo Delle cose meravigliose Grazie Ti vogliamo chiedere Un'ultima cosa Io sono rimasta colpita Da un'altra tua conoscenza Di un personaggio famoso E lo scrittore di best seller Sergio Bambaren Vabbè Sergio è un mio carissimo amico Il mio scrittore preferito Mamma mia Lui mi chiama La mia mamma italiana Io ho buttito i libri autografati Che bello Che bello Per due mesi Lui è venuta a presentare il suo libro La rossa di Gerico Però la conoscenza di Bambaren E' stato incredibile In Sardegna Mi hanno regalato Questo libro Il Delfino Io l'ho letto Il primo è quello no? Ho letto Il primo Sì Dopo questo Averlo letto Io ho detto Io devo conoscere questa persona E ho scritto Ah tu gli hai scritto Che bello Ho detto una mella Ho raccontato un po' Dei delfini di Ischi Eccetera E lui mi ha detto Io vengo a inschiare Questa testa del Delfino Perché per dieci anni Abbiamo fatto questa testa del Delfino Per i bambini Delle scuole Che meraviglia E lui è venuto E' stato a mio obbite La prima volta Poi è venuto la seconda Poi è venuto in Sardegna E anche lì L'ho ospitato Lì ha presentato un altro libro E adesso ogni anno Lui dovunque va Io lo seguo Ah che bello Ma ci faccio la corpresa Non glielo dico prima E' una persona Speciale Speciale Ma si legge Tra le righe Dei suoi romanzi Ha una sensibilità infinita Quell'uomo Sembra veramente Che riesce a parlare Con gli animali Dai dialoghi Che mette all'interno Dei romanzi Lui vive in Perù Lui ha adottato una mospe Sulla spiaggia Vive in una specie di baracca Sulla spiaggia Perché lui è un grande servista Lui si chiama i delfini Sì 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 E lo racconta infatti Nei libri Il protagonista del romanzo Forse sarà lui Perché Praticamente ama la natura E sta sempre lì Allora ho capito Sì ma lo potresti vedere Lui mi ha mandato un video Mentre fa Passetti Si chiama i delfini Bellissimo E mi ha detto Vieni libri Io gli ho detto Sergio ma io mi sono fatta vecchia Non posso più venire Adesso fino in Perù È un viaggio troppo lungo E allora viene lui da me Che bello Io spero che un giorno Vi coinvolgerete Perché Mi fai un dono infinito Quello che proprio Io penso Ho iniziato a leggere Questi libri suoi Lui ogni anno Va a presentare libri Anche in Germania È venuto Sì Anche lì Anche in Germania Lui dice Ma com'è possibile Che io Ogni volta che vado a presentare Un libro in un posto diverso Mi trovo lì Il sardegno è stato un caso Perché lavoravo lì Stavo lavorando lì Ho capito E quindi Ci siamo ritrovati Lui è fattito Quando mi ha visto Veramente Perché non se lo aspettavo Che bello Ti volevo raccontare questa cosa Poi chiudiamo Che si sta facendo tardi Io ho iniziato a leggere I suoi libri di Sergio Bambare Col Delfino Con il primo In un momento molto delicato Della mia vita Durante l'adolescenza I primi libri proprio E poi ho proseguito Soprattutto In ogni momento difficile Della mia vita Io ho trovato Diciamo sollievo proprio Perché è come se ti desse da bere In un deserto Con quello che scrive Allora Tu dovresti prendere Fratello Mare Fratello Mare Sì l'ho letto L'hai letto Che c'è un capitolo Dedicato a me L'hai visto? Ah no Non lo so Non sapevo che eri tu Naturalmente Non mi conoscevi Eh non mi conoscevi Mamma mia C'è un capitolo intero Dedicato a me E c'è scritto proprio Toccati È il tuo nome Mi sa allora Sì Adesso Mi ricordo Ti dico pure la pagina Vuoi leggere una frase Un qualcosa Di significativo Di quel passo? Un capitolo Si chiama Lizia Ed è a pagina 92 Sì Allora Un peduzzettino breve Per favore Sì Il suo nome è Casia Ho avuto occasione Di scambiare con lei Morte mail Per organizzare La mia visita All'associazione Mi aspettava Sul modo Di Lizia Porto In quanto io C'era arrivato Col straghetto da Napoli Appena ho messo piede Attenza Mi ha riconosciuto All'istante Io invece Non l'ho vista subito Era una donna Sulla cinquantina Con corti capelli neri E occhi attenti Come tizioni Mai visto nulla di simile Pieni di amore E di luce Più tardi Vieni a sapere Che quasi tutta l'isola La conosce Spirito di clan Pensai Eh Va bene Il capitolo è lungo Va bene Bellissimo Guarda Questa è una cosa Un colpo di scena Pure per me Non mi immaginavo Che eri andato a finire Anche nel libro di Sergio E bambare E' bello anche La vila bianca Sì Beati sognatori Mi sembra Uno degli ultimi Ma sai quanti ne sono? Ho comprato anche gli ultimi La storia della folpe Non ricordo per decisamente Il titolo Sono venti Sì 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 Cioè Le avevo quasi tutti Poi alcuni Li ho regalati Una una volta Anche a mio marito E in un'occasione speciale Gli ha dato conforto Anche a lui E alcuni Li ho regalati Altri Nuovi Me li sono ricomprati Da capo E me li sono letti Proprio avidamente Cioè Beati sognatori E lo devi avere Tra lello amare Che si legge Tutta la storia Tra noi due Che bello Va bene Allora con queste belle cose Katia Io ora ti devo salutare Che abbiamo la diretta Con Guida Arbonelli Grazie Ti ringrazio E abbraccio Tutti i tuoi amici Grazie infinite Grazie a tutti voi La mamma dei tecini Ciao Katia Ciao 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 Un bacione Ciao Ciao